La stagione dell'Eleonora Sport Lab ha inizio a settembre 2015. La squadra di Mr. Scaione ha subito puntato sul mix tra esperienza e gioventù, solo per il puro piacere di fare sport agonistico. Partita dopo partita, l'Eleonora Sport Lab è riuscita ad arrivare allo scontro finale grazie alla voglia e alla tenacia delle atlete che hanno creduto in loro stesse senza mollare mai. Risultato del grande impegno sono state le poche sconfitte durante il campionato. Domenica 5 giugno si svolgerà nella palestra di Termini Imerese alle ore 18 l'ultima importante sfida contro il PGS Domenico Savio, squadra già affrontata e battuta durante la sfida dei playoff big. Mr. Scaione schiererà in campo Francesca Campagna, centrale, Nadia Vullo, posto e Adriana Crescente, posto 4, il capitano Gabriella Priulla, posto 4, Dina Cintura, centrale, Elena Ferrantello, libero, Lia Saladino, palleggiatrice. Inoltre a disposizione del mister ci saranno Bianca Baziliuc, Alessia Pellicane, Marika Sinacori, Federica Errante, Claudia Di Stefano. Come di consueto l'Eleonora Sport Lab ci crederà fino all'ultimo momento con la grinta e la dedizione che hanno contraddistinto tutti i suoi impegni agonistici. Un grosso in bocca al lupo ad entrambe le squadre e che la sportività e il rispetto siano il leitmotiv principale. Grazie a tutti.